ma bentornati giganauti come va allora continua l'incubo di kena questa attivazione di kena mobile questa sim benedetta quello che vi voglio raccontare quello che ho fatto questa mattina ho contattato l'assistenza di eli mobile perché se avete visto i miei video ho riscontrato delle problematiche nella portabilità cioè quando inserivano l'iccd dopo aver scansionato tutte le varie quark code documenti eccetera 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 hanno scansionato la mia sim e risultava che questa non era intestata a me ho chiamato edi mobile gli ho spiegato a parte tempi d'attesa quasi nulli stato gentilissimo e niente abbiamo controllato tutto abbiamo controllato i miei documenti quindi l'intestazione che era corretta l'iccd che era corretto sinceramente non ho non capivamo quale fosse la problematica questa mattina sono andato a parte sono andata al centro commerciale pensando che ci fosse un chiosco kena avrò avuto delle allucinazioni o molto probabilmente mi sono confuso con fast perché i colori bene o male sono sono uguali e niente non c'era via ricerca di nuovo dal di lì quindi ero in culonia a 10 15 chilometri sono un cavolo in quante quanti chilometri ero ho cercato lì qualche tabaccaio convenzionato insomma ne ho trovato uno sono andato da questo tabaccaio non gli ho detto assolutamente nulla io che solo ho chiesto se attivava queste queste sim che era sì sì non c'è non c'è nessun problema ha incominciato a scansionare il mio quark code ha scansionato i miei documenti dopo di dopo di che io naturalmente ho cominciato a tirare fuori il telefono a togliere la sim di e li mobile perché devono scansionare e l'iccd alla fine invece mi presenta lo scontrino del pagamento quindi 6 euro 5 99 più un centesimo e basta io ho detto ma scusa ma non ti serve il l'iccd della della sim perché ho fatto ho richiesto la portabilità ma no probabilmente forse te la chiedi dopo ma qui non non mi ha chiesto niente allora io sinceramente non l'ho capito perché insomma non mi ha chiesto niente oh ma cos'è ma cos'è oh grazie grazie molto gentile ah bene ma sì bene vale lei e finalmente che emozione che ho avuto fermi però attenzione non lo so e non cantiamo vittoria perché adesso questa sim la faccio vedere che in cerofanata quindi non è non è un'altra perché io ho già avuto che tempo tempo dietro e adesso la vado a inserire la devo attivare voglio vedere un cosa succede voglio vedere se ci sono problemi nell'inserimento probabilmente mi chiederà di fare la portabilità inserendo l'iccd di elimobile allora via inserimento delle sim la entri perché non entri non sei inserita bene voilà ok adesso andiamo a scaricare l'app di kenan oltre alla schedina comunque c'è anche un bugiardino insomma che spiega bene o male cosa cosa bisogna fare come ricaricare la sim come controllare il credito risiduo i numeri da portare con te c'è tutto scritto vedete tutto tutto qua e poi naturalmente qui dove tengono le dita ci sono c'è l'iccd e sotto il pin pin e puc da grattare per sbloccare la sim accento le condizioni sì 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 ho letto bla 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 benvenuto nella nuova area mai kena poi la mossa giusta passa a kena se l'installo vuol dire che sono già passato a kena no entra allora accedi e registrati mi dovrò registrare inserisci il tuo numero di telefono sin kena mobile sul quale riceverai via sms il codice di conferma e chi lo vede è scritto qua qua sotto in basso mamma mi devo cambiare gli occhiali mamma mia poi è scritto in tutto sbiadito si fa fatica a vedere ragazzi mamma inserisci una password quindi ho inserito il numero di telefono non quello di che sto facendo la portabilità ma quello che c'è all'interno della della sim quindi questa qui di di kena poi mi chiedono una password se riesci le quattro cifre che ha ricevuto eccole qua accedi all'area clienti maichina adesso devo rinserire numero di telefono 350 con la password che ho appena inserito allora per continuare confermare identità tramite l'account email toccate allora quello che mi sta dando io sono entrato all'interno fa vedere che minuti limitati dati o 130 130 giga residuo di sms 499 di 500 forse avrà inviato un sms e vi dice consumo dati in europa bene 6 giga e bonus disponibili credito residuo un centesimo offerte promozione però non vedo all'interno l'area della per fare la a questo punto la portabilità e bene adesso però c'era da fare l'attivazione assistenza tiene portato di mano il documento di riconoscimento la testa sanitaria o il codice fiscale solo in caso di portabilità in allora solo in caso di portabilità in che nella foto della vecchia sim da caricare online allora la mia domanda la mia domanda è ma se io sono andato in un centro che era tabaccaio che sia quello che è e ha già controllato i miei documenti quindi io gli ho dovuto dare il mio codice fiscale li ha scansionati ho dato il mio documento li ha scansionati perché devo rifare tutto questo procedimento anche 181 si buongiorno il questo procedimento è un po' tutto il casotto che mi sta capitando quindi dalla prima richiesta quella del 17 novembre siamo arrivati al 2 di dicembre giusto per farvi capire un po il tempo che è passato per fare questa offerta una richiesta una sim di kena mobile nel momento stesso della richiesta io ho inserito cioè ti obbliga a inserire perché è un'offerta solo in portabilità quindi ho inserito il numero telefonico però sinceramente l'iccd dove lo sono andati a prendere perché non lo so io non glielo dato l'ha scansionato l'hanno scansionato le varie le varie tabaccherie ma non è andata a buon fine si sarà bloccato ma ha problemi l'altro tabaccaio l'ha inserito insomma è successo un gran casotto e alla fine sinceramente io non ci ho capito assolutamente nulla perché dove sono andato al tabaccaio che è andato avanti con la registrazione arrivata a scansionare la sim e di mobile per fare la portabilità si è bloccato mi diceva che non andava bene perché non era intestata a me da quest'altro tabaccaio dove invece mi ha attivato la sim non ha scansionato la mia sim per fare la portabilità quindi non hanno il codice iccid sinceramente non lo so un po la legge di marfi non ti far domande insomma a cercare di capire i motivi no funziona basta ok a posto e quindi visto che è attiva la sim che non vai legge attiva insomma bla 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 cosa andiamo a fare via in diretta andiamo a fare questa dov'è qua speed test via 300 addirittura 148 105 ma no ragazzi ma sono sotto al wifi scherze per un momento preso ora anch'io a parte gli scherzi qua sotto c'è scritto che nadai vai questa qui era reale velocità di che la mobile qui da me vi ricordo che ai limiti di 60 megabit al secondo è lui preciso come un orologio svizzero vedete che siamo proprio su quei su quei 60 e non è che va va più quindi mantiene le sue promesse e l'upload giriamo su 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 diamo un po però dai 14 13 15 insomma e diciamo che qui è buono e mamma mia 60.2 con un 15.8 di velocità direi buona molto 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 buona e adesso questa qui e che era mobile e adesso naturalmente dobbiamo andare a fare la prova con copvoce questa vediamo se quella strassatura vi ricordo che copvoce vedete non astro a strutture fino a 100 megabit al secondo queste invece copvoce quindi allora ottima la ricezione qui da me veramente team migliorata tantissimo come vi dissi avevo già una una sim che na e non andava così veloce ecco con copvoce notate che la velocità di upload è molto più strozzata rispetto a quella di che na è che una figlia di team naturalmente però il download vedete 98.6 download e 4 29 e l'upload a differenza avevamo visto di qua che era di 60 qua 60 in download e 15 8 l'upload direi molto molto bene naturalmente essendoci una buona adesso qui a casa mia una buona copertura team ok ci sta va benissimo è stato un po un come si può dire un parto non so no mia le mie figlie sono nate prima non c'è voluto tutto questo tempo per far parto per far sì che partorisse la moglie per fare le due figlie invece qui c'è voluto un po più di tempo e va bene ognuno ognuno ha i suoi tempi l'importante che sono sono riuscito a portarvi finalmente questo kena kena mobile qui adesso lo proverò avrò questi due mesi gratuiti la terror la terremo d'occhio tutte e due vediamo un po le differenze se ci saranno sempre download upload le differenze tra kena e copvoce va bene è una femminuccia la chiamerò kena va bene video naturalmente abbastanza lungo ho cercato di tagliare più pezzi possibile ragazzi noi ci vediamo prossimamente naturalmente se vi può interessare seguitemi seguitemi iscrivetevi sul canale attivate la campanellina mettete like bla 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 solito saluto i nuovi che iscritti e solito abbraccio a chi mi vuole bene ciao ciao da tetto già l'abbiamo fatta ciao